Proprio nell'anno in cui i primi dati alla mano aumentano i turisti in Molise, le aree archeologiche della regione vivono, oltre alla tegola Covid, che impone una serie di limitazioni ai visitatori, anche un altro grave problema, che è quello della forte diminuzione del personale. Tagli che mettono a rischio la stessa fruibilità dei siti. La soprintendente regionale per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, Dora Catalano, esprime così la sua preoccupazione. Paghiamo quest'anno, rispetto agli anni precedenti, non solo le novità organizzative dovute all'emergenza epidemiologica, ma anche una diminuzione forte del personale, sia di tutto l'organico della soprintendenza, ma anche dell'organico dei nostri addetti all'accoglienza e alla vigilanza. Tanto è vero che abbiamo delle difficoltà per riaprire il sito archeologico di Larino. Problemi, quelli legati alla riduzione del personale, che creano non poche difficoltà anche al luogo simbolo della storia, dell'arte e del turismo molisano, il sito di Altilia. Diciamo che le persone che lavorano qui, al di là del personale proprio di vigilanza, che è in numeri ridotti, per cui abbiamo una figura in sala regia e una persona che invece sorveglia l'area, al di là di questo, è un personale che opera part-time, potremmo dire. Mi viene in mente questo termine, perché sono i funzionari tecnici della soprintendenza, archeologi, architetti, le varie figure, funzionari per le tecnologie, che lavorano su Altilia, ma al tempo stesso lavorano su altri siti della regione o comunque si occupano della tutela del patrimonio culturale della regione. Oltre ad Altilia, la soprintendenza accende i riflettori in queste ore anche su un altro sito, con la speranza di poterlo aprire a breve. Stiamo lavorando sul sito del Tempio Sannita di Campochiaro, che anche lì pensavamo di riaprire al pubblico per il periodo estivo, e invece col fermo, bene o male, arriveremo a settembre, in tempo per richiuderlo poi per le avverse condizioni meteorologiche. Tutto questo accade nell'estate segnata da un turismo totalmente diverso. Un italiano su due non andrà in vacanza, ma il Molise è in controtendenza. E' quanto emerge dall'indagine sull'impatto dell'emergenza Covid realizzata in questi giorni da Union Camere. Le grandi mete di massa accusano il colpo per la paura dei contagi e gli italiani sembrano premiare rispetto al passato quelle regioni, quelle zone del paese in cui il virus ha avuto un impatto minore o che offrono aree interne meno popolate, in cui il distanziamento è più facilmente garantito, tant'è che il Molise raddoppia le presenze rispetto allo scorso anno. Una normale giornata feriale, il pubblico aumenta tantissimo durante i fine settimana naturalmente, però è cambiato il pubblico ed è un pubblico che è alla ricerca di una dimensione di comunità, che vuole appartenere a questo luogo, che ci mette un'emozione, anche delle emozioni personali, secondo me più forti di ritrovarsi, si ritrova in questo luogo e molti mi dicono ma mi sento a casa.